Torna in campo Loke Pistoia dopo la bella vittoria della scorsa settimana contro Brescia. Gli uomini di Mister Treno infatti saranno impegnati sabato nella gara di recupero in casa della Superba Genova, formazione che ambisce play-off e che nell'ultima gara giocata ha battuto il Cuscagliari, altra pretendente alla massima serie. Era nell'area la possibilità di poter recuperare questa partita con Loke Superba, però ormai arrivati a martedì si pensava che appunto non ci fossero più i presupposti. Invece è un po' quasi come una bomba arrivata all'improvviso, è uscito il comunicato e sabato giocheremo a Genova contro Loke Superba. Loke Superba è una squadra benissimo attrezzata, con tutti i ruoli coperti e alcuni giocatori straniere di forte qualità. Io credo che sia la squadra più attrezzata con i presupposti per poter salire ai play-off e pertanto sabato per noi sarà una partita molto difficile e complicata. Purtroppo si aggrava il fatto anche di alcune nostre assente, di alcuni che lo guastino il nostro portiere più in forma, Masi e Salvi. Comunque sia, cercheremo di andare a Genova nelle miglior condizioni mentali possibili per affrontare un match che sarà sicuramente difficile.